Bentornata in Fibro News, la serie di video in cui ti do in meno di 5 minuti veloci aggiornamenti sulla fibromialgia in Italia. Oggi 9 febbraio 2022 parliamo delle marche, perché? Perché è stata approvata la modifica della legge 38 del 2017 alla difesa dei fibromialgici e anche per appoggiare le persone con sensibilità chimica multipla. Quindi che cosa è successo? Unito il consiglio regionale ha vinto la maggioranza con i sì, con 23 sì, un astenuto e due astenuti e un contrario e hanno approvato appunto la modifica della legge. Ovviamente le modifiche sono state a favore per appoggiare i malati, i pazienti, si creeranno due registri indipendenti, uno per la fibromialgia, uno per la sensibilità chimica multipla, prima ce n'era solo uno per la fibromialgia, quindi si prendono le due patologie in due modi distinti, diciamo si dividono per studiarle più a fondo e con più attenzione, con la creazione appunto di un'altra cartella per la sensibilità chimica multipla. La seconda novità è che verrà stabilito sempre in ambito regionale nelle marche un comitato tecnico-scientifico per delineare le guide di prevenzione e di trattamento e la novità che mi piace tantissimo e che questo sarà creato attorno alla multidisciplinarità, cioè ci sarà la multidisciplinarità tra i professionisti, i medici, i fisioterapisti, ci saranno molte figure che collaboreranno, questo è importantissimo perché sappiamo che queste malattie di dolore cronico hanno bisogno di un intervento multidisciplinare, quindi veramente tanti applausi per questo. Verranno stanziate delle somme e verranno appunto organizzate delle attività di prevenzione della malattia, di sensibilizzazione, anche questo complimenti perché sappiamo che è importantissima la sensibilizzazione della cittadinanza su questi temi. Inoltre a ogni fine anno verrà stata una relazione sugli obiettivi raggiunti, su come hanno funzionato le proposte, come ha funzionato la sensibilizzazione, magari si rivedrà il comitato tecnico-scientifico, quindi un sacco di buoni propositi. Ed ora la mia opinione finale, sebbene questo sia un argomento molto tecnico, se non vivi nelle marche, magari non ti interessa, invece dovrebbe interessarti perché si stanno avviando dei presupposti veramente eccellenti, appunto la multidisciplinarità per la malattia, per gestire la malattia, il comitato tecnico-scientifico, quindi già una cosa un po' più seria per delineare appunto le diagnosi, i modi di intervento all'interno della materia con i malati. La relazione annuale che darà come dei feedback per migliorare ogni anno, quindi già una presa di posizione molto seria anche qui. E poi anche i due registri separati, quindi non solo dolori cronici, fibromialgia tipo pentolone, dove buttiamo dentro un po' tutti quelli che stanno male e non trovano una soluzione veloce dai medici, ma andiamo a delineare la fibromialgia, andiamo a delineare l'altra patologia, la sensibilità chimica multipla, andiamo a svilupparle tramite due registri separati, quindi tutto questo mi sembra proprio un passo in avanti, complimenti alla regione Marche e ci vediamo per i prossimi aggiornamenti. Dunque alla prossima edizione, al prossimo video, ciao! Grazie! Grazie! Grazie!